Si celebra oggi la giornata mondiale dei malati di Lebra. Questa malattia, pur essendo in regresso, è ancora tra le più temute e colpisce i più poveri e demarginati. E' importante lottare contro questo morbo, ma anche contro le discriminazioni che esso genera. Incoraggio quanti sono impegnati nel soccorso e nel reinserimento sociale di persone colpite del male di Hansen, per le quali assicuriamo la nostra preghiera.